Butte di Lussendorf, il salone più grande della Germania, siamo qui per le anteprime di iCat SVN Catamarans per presentarvi l'M48, il nuovo catamarano della Prestige, uno dei pochissimi catamarani a motore che nasce in quanto tale, non è un catamarano a vela poi modificato. Qui con me ho Andrea Cragnotti che è il direttore commerciale della Prestige e sarà lui a illustrarci la barca. Ciao Andrea. Buongiorno Maurizio. Andrea, allora questa barca tutti dicono che è una barca molto innovativa, molto nuova, quali sono le innovazioni che porta una barca come questa? Allora questa è una barca che nasce innanzitutto come giustamente dicevi già dall'inizio con un progetto di Philippe Briand che ha lavorato sullo scafo per fare un catamarano a motore, quindi uno studio dei volumi e delle altezze molto attento che ci permette di utilizzare il tunnel fra i due scafi a un'altezza tale per cui riusciamo a mantenere un baglio a prua completamente disponibile per l'abitacolo della cabina armatoriale e quindi da questo punto di vista su un 48 piedi riusciamo a offrire un volume di un'embarcazione molto più grande perché tradizionalmente il catamarano offre soltanto la possibilità di sfruttare gli scafi, invece noi riusciamo a sfruttare anche lo spazio tra i due scafi, infatti avete questa cabina di prua che è enorme e questa è una caratteristica che poi porteremo avanti sullo sviluppo della gamma perché questo è solo il primo, certo perché adesso voi già state studiando un'altra barca, stiamo studiando un'imbarcazione che è già in costruzione di 68 piedi che si chiamerà M8 perché ci siamo resi conto che offre i volumi di un 80 piedi monoscafo, certo questo è il bello del catamarano, senti ma l'altra particolarità che io vedo in questa barca che non è largo quanto un catamarano tradizionale. Sì, è un aspetto molto importante anche quello perché se vogliamo l'inconveniente del catamarano sappiamo tutti che con la poca disponibilità di posti barca che c'è nei nostri mari spesso è difficile e più costoso trovare un marina che ospiti la barca dei nostri clienti, grazie al fatto proprio che riuscivamo a sfruttare lo spazio in maniera ottimale siamo riusciti a fare un catamarano che è leggermente più piccolo di quanto sono i catamarani della stessa taglia, ha un bagno di 6 metri che è molto inferiore ma offre i volumi interni di una barca più grande. Cioè un quarto in meno di un catamarano tradizionale, un quarto in più di un monoscafo. Esattamente, quindi un compromesso ottimale. Gli spazi sono pozzetto di poppa, un bellissimo pozzetto di prua e il fly, ce ne parli? Allora, innanzitutto il pozzetto di poppa su cui ci troviamo adesso ha degli stivaggi enormi che sono disponibili grazie al fatto che i motori, che sono due Volvo da 320 cavalli, sono V-drive, collocati quindi all'estremità di poppa della barca e ci permettono di sfruttare lo spazio per gli stivaggi che sono, come sappiamo, un aspetto essenziale. Per quanto riguarda il rasso della barca abbiamo due distribuzioni, la 3 cabine e la 4 cabine. Devo dirvi che ad oggi il grande successo è la 3 cabine, perché la 4 cabine che abbiamo pensato per il charter la stiamo vendendo, ma è quello che è veramente, come dicevamo, la parte bella della barca è la cabina di prua. Quindi noi sicuramente guardiamo anche al mercato del charter, che è un mercato importantissimo, ma è una barca pensata più per l'armatore. In effetti quando io arrivo e scendo là sotto, rimango così proprio. E questo poi lo vediamo anche alle definiture, perché la barca ha delle finiture da motor yacht, non da barca a vela, come tanti catamarani di altre marchi che hanno più quella mentalità. Noi, avendo esperienza di più di 200 barche motor yacht consegnate in un anno, siamo arrivati a un livello di finiture che sono quelle che i nostri clienti si attendono su una barca del genere. Non solo, ma siete anche capaci di sfruttare i volumi, gli spazi in maniera completamente diversa quello che fa un cantiere più piccolo. Questo devo dire è sicuramente grazie alla collaborazione che c'è con lo studio Garroni e il cantiere Prestige, che sono tanti anni che lavorano insieme, quindi sull'industrializzazione sono fortissimi i nostri amici di Genova. E io vedo pure un Fly che è particolarmente grande. Il Fly è molto grande, poi abbiamo seguito il trend degli ultimi anni di avere dei mobili non strutturali, quindi in questo caso sono dei mobili Roda, che è un marchio sicuramente molto amato da chi è nella nautica, ma siamo disponibili a fare le personalizzazioni, perché non dovendo avere nessuna controstampata possiamo fare un po' quello che vuole. Potete levare un mobile e metterne un altro, esattamente. Benissimo, grazie mille Andrea, molto gentile, grazie. Grazie a voi. E con questo vi abbiamo presentato l'M48, che come avete visto è una barca molto particolare, secondo me molto bella e molto interessante, che si propone sia a chi viene dal mondo del motore che cerca una maggiore comodità, sia anche a chi viene dal mondo del catamarano a vela che invece cerca una maggiore velocità. E con questo io spero che il video vi sia interessato, se è così fatecelo sapere, dateci il vostro like, vi do appuntamento col prossimo video con iCat SVN Catamarans.